Il portamento della conducente era veramente molto pericoloso, abbiamo cercato di operare al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti della strada. Siamo riusciti a intervenire nel momento opportuno, nel momento in cui il veicolo impegnava la rotonda di Baggiovara, che è stato il momento durante tutta la fuga in cui c'era minor rischio proprio per gli utenti della strada. Quando è che è stato intercettato il veicolo e dove? Il veicolo è stato intercettato inizialmente qua nelle vie del centro in zona viale Muratori. L'inseguimento si è protratto per diversi chilometri, è interessato prima via Emilia Est, la tangenziale, parte delle strade del quartiere Morane e poi dopo si è diretta l'autovettura in fuga, si è diretta dapprima sulla strada statale 12, poi ha imboccato strada Martiniana in direzione di Baggiovara. Giunta a quel punto già in via Martiniana c'è stato un primo momento di incontro con un'autovettura di servizio perché l'autovettura fuggitiva in un momento eravamo riusciti a costringerla, a rallentarla, però il conducente non ha esitato a tamponarci per rigarantirsi nuovamente la fuga. In frazioni durante allora abbiamo una serie di violazioni alle norme del comportamento lungo la strada, per cui parliamo di diversi semafori rossi, parliamo di violazione della segna elettrica orizzontale, parliamo delle strisce continue lungo la strada, parliamo di mancate precedenze e di velocità pericolose. Poi ci sono una serie di violazioni connesse all'utilizzo del veicolo perché la conducente guidava con patente revocata e con un'autovettura sprovvista di copertura assicurativa. Il seguimento è terminato quando il veicolo ha imboccato contro mano la rotonda, ci diceva. Sì, l'autovettura era inseguita a un certo punto imboccando la rotonda di Baggiovara, essendo in quel momento impegnata da parte di traffico, ha cercato, proprio per continuare la fuga, di imboccare la rotonda contro mano. In quel momento si è creata l'occasione per due autoveicoli di servizio di costringerla a terminare la fuga all'interno della rotonda.